Inizia Nico. Allora, Lorenzo e Francesco davanti a Nicolai. Selima a sinistra, Ruffini in mezzo, Bellini a destra, Federico punta. Secondo tempo Marco e Michele due difensori, in porta comincia Giovanni. Alessandro a sinistra, Matteo in mezzo, Doardo a destra e la punta la decidiamo dopo. Ok? Tra i tempi come al solito. Dai. Inizia l'arbitro, oh, andate dentro e fate tutto da solito.